La Commissione non è consistente solamente dal sindicato di Topa. Mi chiedo che il Ministro e il Presidente mi portiamo a vista per il desarrollo e il funzionamento nel Departamento di Recurso Umano e la incluire una persona di Subirou, del caso, per formare parte e partire la Cabeza del Commissione per andare nel Departamento di Recurso Umano, per sentire che non si può fare con tutte le persone qui e con una posizione giuridica che non si può prendere. Inoltre, non stiamo parlando solo di rinforzare la promozione, ma stiamo parlando di caso di attenzione del Corte che non si può prendere la Corte e che non si può prendere la Corte e non si può prendere la Corte. di Baccia. Non stiamo parlando di solamente una o due persone, ma stiamo parlando di una quantità di membri del sindicato Topa con una promozione e un altro derecho di caso juridico che si può prendere formalmente nel momento.